L'idea del progetto nasce dalla volontà di trasferire un po' la nostra filosofia progettuale, quella che utilizziamo per sviluppare, per concepire le nostre vetture, su un prodotto che è diverso, che appartiene al mondo dell'arredo, degli spazi di lavoro. È stato molto naturale, molto spontaneo trovare una forma che incarnasse un pochino i nostri principi. La collaborazione fra Ferrari e Poltrona Frau affonda le radici negli anni 90, quando la casa del Cavallino scelse la Poltrona Frau per realizzare gli interni delle proprie autovetture. È stato naturale per Ferrari pensare a Poltrona Frau come l'azienda che realizzasse un oggetto d'arredo che ne celebrasse i 70 anni. È una forma che si ispira evidentemente alle nostre sedili, quelli racing, soprattutto quelli della supercar, la Ferrari, ma anche quelli delle vetture, delle sports car. L'idea di fondo che presiede alla realizzazione della Poltrona Cockpit è quella di trasferire dal mondo dell'autovettura sportiva a quello dell'arredo domestico o comunque dell'arredo allo spazio di lavoro le stesse emozioni che si provano al volante di una vettura del Cavallino. C'è proprio un'alternanza di pieni e vuoti che permettono non soltanto di contenere e dare la massima ergonomicità alla seduta, ma anche di creare un effetto di traspirazione. Nel disegnare le forme della nostra Ferrari Cockpit ci siamo ispirati a un concetto di leggerezza, che non è soltanto la leggerezza fisica che si ottiene attraverso l'utilizzo di materiali altamente prestazionali, ma è anche una leggerezza visiva. Non è un caso pertanto che sia stata utilizzata la fibra di carbonio piuttosto che l'alutex per ottenere determinate prestazioni nella fruizione dell'oggetto di arredo. L'approccio modulare al progetto ci ha permesso di declinare questa poltrona in più versioni, andando a definire una seduta che è comune a tutte le versioni e trattando invece lo schienale in modo diverso, a seconda che si tratti dalla versione President o dalla versione Executive. Ogni dettaglio della poltrona Cockpit è stato curato con la massima attenzione, cercando di replicare elementi di dettaglio che è possibile trovare all'interno di una vettura Ferrari. Le tre varianti si chiamano scuderia classica e inedita e si ispirano un po' ai tre filoni che noi proponiamo ai nostri clienti del programma TaylorMade, uno ispirato al mondo racing, al mondo delle corse, l'altro ispirato all'heritage, alla storia di Ferrari, e l'altro invece al mondo dell'innovazione, dell'avanguardia. La collaborazione fra Poltrona Frau e Ferrari è stata un esempio innegabile di collaborazione fra due eccellenze del Made in Italy che sono così differenti per gli oggetti che realizzano, ma così simili per l'attenzione e la cura al dettaglio, al particolare e soprattutto all'eccellenza dei materiali utilizzati, delle modalità costruttive e del prodotto finito.